Ciao ragazzi, io sono Antonio e oggi video assaggi a tema Harry Potter. Ebbene sì, i ragazzi del sito MyAmericanMarket mi hanno inviato un pacco pieno di nuovi dolci potteriani. Tutti i nuovi prodotti che sono stati lanciati di recente a tema Harry Potter. Io li ringrazio tantissimo per avermi inviato questo pacco da mostrarvi, da poter recensire qui assieme a voi sul canale. E naturalmente vi lascio sotto i link a tutti i prodotti che vedrete e naturalmente al sito MyAmericanMarket che è un sito francese, da quello che ho capito, ma che spedisce anche in Italia. Il sito è anche in italiano e quindi potrete acquistare tranquillamente. I prezzi devo dire che sono molto molto contenuti, sono prezzi davvero in linea con quelli che si trovano altrove, anzi direi qualcosa meno, quindi io assolutamente mi sento di consigliarlo. Ragazzi, ma detto ciò io adesso apro questo bel pacco e andiamo subito a sbirciare questi prodotti che volevo provare già da un po'. Perché, ebbene sì, dentro questo pacco c'è anche la famosa bacchetta di cioccolato. Io non ricordo più quale ho scelto, quindi adesso lo scoprirò qui assieme a voi. Bene, abbiamo tantissimo scotch e vediamo cosa c'è all'interno. Wow, imballato davvero super bene. Guardate ragazzi, pieno di pluriball, di questa carta con le bolle, con le bolle belle grosse e volevo precisare che una volta effettuato l'ordine potrebbero passare dieci giorni, al massimo due settimane, prima di ricevere il pacco. Probabilmente io ho aspettato un po' di più perché ho fatto l'ordine pochi giorni prima di Natale, poi c'è stato di mezzo anche il Capodanno, tutte quelle feste, quindi magari sono stato io un po' sfortunato. Però ragazzi, di solito penso che nell'arco di una settimana dovrebbe arrivare perché in ogni caso il pacco arriva dall'estero. È giusto che io ve lo dica perché poi magari c'è gente impaziente che dopo due o tre giorni va fuori di testa perché il pacco non è ancora arrivato, quindi state tranquilli, potrebbe impiegare qualche giorno in più solo perché viene dall'estero. Ma adesso tiriamo fuori i prodotti perché sono davvero mega, mega curioso. Ecco qui, abbiamo questa cartolina di My American Market, sei un cliente fantastico, grazie per il tuo ordine. Davvero molto molto carina. Qui abbiamo un'altra cartolina con gli Stati Uniti e poi tutti i nostri prodotti. Che carini hanno anche messo delle cose in più che mi erano apparse automaticamente nel carrello, quindi sicuramente è un omaggio che viene dato a tutti. Hanno inserito due pacchetti di Jelly Beans, quindi le gelatine tutti i gusti più uno, però quelle del mondo babbano. Molto molto carine, super apprezzate. E poi abbiamo un animale di Harry Potter. Questa è la confezione random, ne arriva uno random. Sono le nuove creature gommose di Harry Potter. Adesso lo andremo a vedere meglio. Poi abbiamo anche gli animali di cioccolato, sempre random. E poi abbiamo ancora questo qui che è un astuccio con tutti i vari stemmi di Hogwarts delle varie case. Abbiamo appunto quello di Grifondoro, quello di Serpeverde, quello di Tassorosso e di Corvo Nero. All'interno di ogni confezione dovrebbero anche esserci degli stickers che adesso andremo a vedere assieme. E poi, per finire, anche la bacchetta di cioccolato. Io ho scelto quella di Sambuco. Non lo ricordavo più perché è presente anche quella di Harry, quella di Ron e quella di Hermione, se non ricordo male. Io ho scelto questa qui e, ragazzi, come potrete notare già dalle confezioni, sono tutti ufficiali. Sono tutti prodotti ufficiali sotto licenza Warner Bros. Wizarding World. Infatti, sul retro troviamo tutti i vari loghi. Quindi non si tratta di prodotti contraffatti o simil Harry Potter, ma proprio di prodotti originali. Io direi a questo punto di cominciare con i nostri assaggi. Iniziamo da questa. Questa è una bustina dove è possibile trovare una creatura fantastica tra sei differenti. Quella che troviamo qui illustrata sul fronte è la sagoma di Thor, ovviamente, il cane di Hagrid. Ma all'interno si trova anche uno sticker collezionabile. Quindi io direi di andare ad aprirlo e di guardare cosa abbiamo trovato all'interno di questa bustina. Ecco qui. Allora, già vedo l'adesivo. L'adesivo è un adesivo tutto dorato che si stacca, quindi si stacca solamente la sagoma, di Aragog. Davvero molto molto bello. Quindi credo di aver trovato a questo punto un acromantula di cioccolato. E invece no. No, invece no. Ho trovato Edvige. Guardate quanto è carino Edvige con la busta nel becco. È davvero fatta benissimo. E sul retro vediamo che il cioccolato è pralinato. Io sinceramente non lo mordo. Non vorrei morderlo. Così da potervelo mostrare tutto intero più nel dettaglio. Magari andrò ad assaggiare uno degli stemmi, visto che sono quattro, perché credo sia proprio lo stesso cioccolato. Davvero molto molto bello, però lo stampo mi piace tantissimo. Chissà quali sono gli altri personaggi, Edvige, Thor, ne mancano altri quattro. Quindi qualora voi aveste già acquistato questo tipo di prodotto, fatemi sapere sotto nei commenti quali sono gli altri personaggi, gli altri animali che è possibile trovare. Poi abbiamo, ecco qui, parlavamo degli stemmi, quindi passiamo a questi. Molto molto carino. Dietro c'è anche la possibilità di mettere da A, quindi di regalarli a qualcuno, scrivendo da chi viene il regalo e per chi è. È davvero molto molto bella la confezione, molto elegante. E andiamo a togliere il sigillo, perché qui dovrebbero essere contenuti degli altri regalini. Vediamo cosa c'è all'interno. Ok, ecco qui, tiriamo fuori la vaschetta con i vari stemmi e vediamo cosa c'è sul fondo. Esatto, ricordavo bene, qui abbiamo degli adesivi e abbiamo gli adesivi di tutte e quattro le case di Hogwarts. Molto molto carini, soprattutto ad esempio per chi fa lavoretti con la resina, è possibile fare tranquillamente dei portachiavi utilizzando questi stemmi qui o fare dei fermacarte. Sono davvero molto molto carini, si staccano, sono già sagomati. Davvero carini, questi li conserverò sicuramente e ci troverò un utilizzo in futuro. E ecco qui tutti i vari stemmi, anche in questo caso molto molto belli, super elaborati. E io direi di andare ad assaggiare quello della mia casa, che è quello lì di corvo nero. Eccolo qui, oh non vorrei farlo cadere. Anche in questo caso pralinato sul retro e quindi mi tocca assaggiarlo. Buono, è del cioccolato al latte con una pralinatura di riso soffiato. È molto semplice, molto leggero, non è stucchevole, non è molto dolce, quindi direi un buon cioccolato al latte con delle praline. Molto semplice, sicuramente adatto ai bambini e mi piace, mi piace tanto, molto carina l'idea, soprattutto anche come idea regalo, è davvero molto molto carina. Ma adesso passiamo ad un altro prodotto sempre di cioccolato, apriamo la bacchetta. Gran bella confezione, dietro abbiamo anche silente e sono curioso di sapere cosa si trova all'interno di questa. A questo punto già due adesivi, vediamo se qui ci sono altri adesivi ancora. Ecco qui, tiriamola fuori, wow, questa davvero confezionata bene, mannaggia, è arrivata rotta, mannaggia. Adesso ve la mostro meglio e poi abbiamo il regalo. In questo caso abbiamo questo che credo sia un adesivo anche in questo caso ed è una lista di incantesimi. Abbiamo il Wingardium Leviosa, Tarantallegra, il Mimbledonia e poi lo Stupefai, lo Stupeficium. Quindi anche in questo caso credo siano collezionabili, probabilmente ce n'è più di uno, sarà una diversa in ogni bacchetta. E la bacchetta arriva in questa confezione molto molto bella, ma purtroppo la mia è arrivata spezzata. Qui al centro, come potete vedere, è rotta, ve la mostrerò più da vicino. Un gran peccato, è molto pesante, si tratta di circa 50 grammi di cioccolato, pensavo fossero di più, però è abbastanza pesante. E ragazzi, purtroppo, come vi dicevo, è rotta, quindi non volevo assaggiarla, ma a questo punto lo farò, visto che ci hanno già pensato loro a romperla. Non è presente all'interno pralinatura, è cioccolato semplice, quindi direi di andare ad assaggiare la punta. Sì, anche in questo caso, cioccolato al latte, semplice cioccolato al latte, ma buono. Devo dire che la qualità è molto molto buona, non è quel cioccolato scadente che in bocca lascia un cattivo sapore, è molto molto buono. È possibile conservarla chiudendola, mettendo qui la sua copertura. Purtroppo, ripeto, la mia arrivata rotta, mi dispiace tantissimo, il prezzo di questa bacchetta si aggira attorno ai 10 euro, quindi non è proprio economica, ma comunque il prezzo ovunque, ho visto che è quello, se non di più, alcuni siti anche 13 euro. Ragazzi, io questa la metto da parte, sicuramente conserverò la scatola, la aggiungerò alla mia collezione perché mi piace, è molto molto carina la scatola, è sempre un prodotto ufficiale. E poi, ecco che passiamo all'ultimo che invece è la creatura gommosa. Io ammetto ragazzi di essere in grandissima difficoltà perché non riesco a capire di cosa si tratti, quindi spero che tirandola fuori dalla busta o ci sia una figurina dentro che ci vada a spiegare qual è l'animale, o comunque spero che tolta la busta sia più dettagliato e si riesca a capire bene perché davvero non riesco a capire di cosa si tratti. Quindi, andiamo ad aprirlo. Questa qui gommosa è l'animale di cioccolato random, se non sbaglio costano circa 4 euro. Poi trovate anche naturalmente le gelatine di tutti i gusti più uno, le cioccorane, la burro birra. Io quelli non li ho presi, non me li sono fatti inviare perché li ho già recensiti in passato e magari vi lascio la scheda qui in alto con i video corrispondenti o comunque il link da qualche parte. Spurciando nella mia lista, nella mia playlist di Harry Potter, li troverete sicuramente. In questo caso, no, in questo caso credo non sia presente nulla, nessun adesivo, però ok, adesso sì, sono riuscito a capire qual è il personaggio. C'è un fortissimo odore di limone, si tratta di Fiero Becco. Ragazzi, è un Fiero Becco un po' poco dettagliato. Abbiamo qui la coda, abbiamo le ali, le zampe, la testa. Spero si riesca a capire, magari cercherò di farvelo vedere più da vicino. Sono molto combattuto, se assaggiarlo o meno, saprà sicuramente di limone perché l'odore è davvero fortissimo. E mi dispiace rovinarla perché vorrei inquadrarla da vicino senza morsi, senza nulla, ma magari do un morsettino piccolo piccolo alla gamba, qui al piede. Magari ne tolgo un pezzettino minuscolo e vi dico di cosa sa. Sì ragazzi, sa esattamente di cosa ci si aspetta. Di limone, sa un po' di detersivo per piatti. Non so se consigliarvelo sinceramente. Molto carino, fascina, però non lo so. Non so se consigliarvelo. È una caramella al limone, molto molto artificiale. Io preferisco sicuramente il cioccolato. Secondo me, tra tutto, forse gli stemmi sono la cosa più carina, più elaborata, più particolare. La cosa che più magari vale il prezzo richiesto. La bacchetta carina, come da regalo, è il mini cioccolatino random. Carino, c'è anche l'adesivo. Quindi ve lo consiglio. Forse, tra tutto, questo che non ha neanche un adesivo incluso, è quello che vi consiglio meno di acquistare. Come vi dicevo, super apprezzate le due bustine di gelatine. Quindi, in ogni caso, tutto è arrivato in tempi ragionevoli. Io vi consiglio questo negozio, My American Market. Vi lascio sotto tutti i link per andare a sbirciare. Fatemi sapere sotto nei commenti cosa magari vorreste che io andasse ad assaggiare la prossima volta. E con questo, ragazzi, credo proprio che per oggi sia tutto. Io ringrazio ancora tantissimo My American Market per avermi inviato questi prodotti da provare assieme a voi. Vi lascio tutti i dettagli sotto in info box. Grazie per aver visto il video fino alla fine. Spero di avervi tenuto 10 minuti di compagnia. E, ragazzi, mi raccomando, lasciate un mi piace, commentate, condividete il video con i vostri amici. E noi ci vediamo prestissimo con tante altre novità. Ciao! 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 Ciao!